Mauro Ferrari, direttore del CISO-Sola. Nell'occasione della giornata della trasparenza sono stati illustrati i dati dell'attività del 2018. Da questi dati emerge una situazione drammatica, in particolare per la situazione dei minori. Vuole parlarcene? Assolutamente, è la preoccupazione più grande che abbiamo attualmente come servizio sociale. Vi posso dire con tranquillità che ci arrivano due segnalazioni alla settimana di presa in carico dei minori. Poi fortunatamente alcune vanno a buon fine, altre invece hanno una situazione che poi si sviluppa nel tempo. Noi abbiamo attualmente in carico più di 450 situazioni di diversa attitudine, diversa necessità. Però tecnicamente sono tutte situazioni che vedono davvero protagonista i bambini. Il problema è che la preoccupazione è che i bambini crescono, per cui saranno i cittadini di domani, dovrebbe esserci davvero.